Maxi sequestro preventivo da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Oltre 8 milioni e 700 mila euro con sigilia, 10 fabbricati, due terreni, un opificio industriale, una cassetta di sicurezza e 15 conti correnti bancari, tutti riconducibili ad una società già fallita nell'anno scorso. Secondo le fiamme gialle sono stati manomessi i bilanci e la documentazione della società attraverso l'eliminazione di poste contabili creditorie sottovalutando gli elementi attivi e sopravvalutando invece quelli passivi, il tutto con la complicità di un commercialista di fiducia. La falsa rappresentazione dei dati contabili infatti è stata asseverata nella fase di redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, presentata in ben cinque occasioni, mai con esito favorevole e sempre con finalità meramente dilatorie. Dalle indagini è emerso che alla società, già da tempo in cronico stato di insolvenza, è subentrata una NUCO, riconducibile al medesimo gruppo familiare, a cui è stata effettuata una cessione, nell'ambito del concordato, di un ramo d'azienda produttivo della società fallita per oltre 2 milioni di euro contro il valore stimato pari a 6,2 milioni. Operazione questa che ha svuotato le casse già in rosso della società cedente. L'esito degli accertamenti ha fatto emergere una complessiva esposizione debitoria di circa 26 milioni di euro, di cui circa 15 milioni per debiti tributari. Sono state notificate 5 informazioni di garanzia per reati fiscali e fallimentari nei confronti degli amministratori protempore della società fallita e di un professionista.